Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come vado a realizzare il mio muretto. Innanzitutto andiamo a fare la manicure e spengo indietro le cuticole, passo la punta e le taglio. Dopodiché vado ad eliminare ogni traccia di polverina. Come sempre poi vado ad utilizzare i miei preparatori liquidi, cioè il nail prep, il primer e poi passo alla base. Come vedete sto utilizzando i prodotti di La Femme Professionelle. Adesso vado a prendere un tappuccio di Ugel e vado a prendere la Sleep Solution. Utilizzo quello perché ho perso chissà dove il tappetto di vetro. Con due dita vado a bloccare il mio dito tremolante per farvi vedere come ho applicato la cartina. E cartine che peraltro vi sconsiglio assolutamente di acquistare perché sono veramente terribili. Vado a fare il mio muretto in due passaggi, quindi prima faccio la base, do la forma, polimerizzo in lampada e poi faccio un secondo strato. Dopodiché vado a limare il muretto quando mi rendo conto di aver dimenticato di fare l'allungamento dell'unghia. Quindi l'ho fatto in un secondo momento. Dopodiché vado a delineare lo smile line con un bellissimo verde acqua. Una volta fatto anche questo vado a prendere un acrygel bianco e lo vado a stendere per tutta la lunghezza. Dopodiché vado a prendere la pellicola trasparente, la spiaccico sopra e con un bojira gel per mescolare i pigmenti e creo delle scalanature. Ovviamente effettuato questo passaggio vado in lampada a polimerizzare. Dopodiché vado a prendere due semipermanenti e verde acqua e lilla e vado a sfumarli per tutta la lunghezza. Dopodiché vado a prendere dei piccoli pezzetti di madreperla che non volevano stare in alcun modo, alcune scagliette che ho finito già da un po' e vado a decorare il mio muretto. Dimenticavo anche qualche scaglietta oro che col verde acqua secondo me ci sta benissimo. Purtroppo ho dimenticato di registrare mentre andavo a riempire il muretto con il gel trasparente. Comunque ho riempito il muretto con il gel trasparente, ho fatto la lima dura e ho applicato il lucido. Dopodiché ovviamente è immancabile l'olietto percutibile. Tutorial finito, qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!